musica 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 ciao a tutti ragazzi siamo qui oggi in un nuovo video qui su l'eden network su leden craft beta 2.1 ci ci ripara papapapa siamo qui con stasic se ha 27900 che è un amico di pa e e franci cazzo si ricorda e questa è casa sua cioè più che altro è più grande all'albero della casa però si è casa sua mirale che casino che schifo dorme di spacco il letto di spacco beh dai piccola ma accogliente diciamo piccola ma accogliente bello 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 è in questo video non so che fare nell'altro abbiamo fatto schifo nell'altro abbiamo fatto andiamo a critica gli altri lotti ne sento una roba in gola un attimo un attimo rieccomi ragazzi andiamo a fare qualche che oh ecco voglio fare una roba tipo lollipop no andiamo da a 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 un truffatori andiamo a casa di minator 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 oddio che cazzo è ecco perché si chiama minator madonna mamma mia questo server non so mai che fare io perché ecco ecco allora qua questa anzi aspettate vi voglio far vedere una casa c'è ragazzi questa qui è la casa di tesla c'è ragazzi c'è magnifica è a dir poco magnifica oddio guardate che figata è troppo figa è troppo figa ma questo qui è uno dei più bravi costruttori di minecraft cioè se mi do metteria a fare una costruzione così mi fanno prete c'è cioè mi devo fare prete perché non riesco a farla cioè ma adesso come cazzo si sale qua c'è secca di giù ti devi rifare tutto a piedi corto frutta corto frutta corto frutta livello meno tre magazzino bello livello meno due appartamenti che poi da solo non so che cazzo livello meno uno un altro magazzino invece qua e poi si sale bello ma come costruisce? voglio saperlo cioè c'è i tutorial per costruire ebbè 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 mi butto ma che livello siamo? livello livello sette ma che cazzo quanto ha scavato? ebbè 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 vieni alla prima casa come una cosa ma cosa vieni alla prima cosa vieni alla prima cosa non vieni 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Perfetto. Questa è la casa di KT, ma che schifezza. Aspettiamo. Puoi rimpere blocchi pietra rossa, unice? Puoi rimpere blocchi pietra rossa. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.